segui il cuore e se parti l'universo poi ti viene dietro quindi ecco non traccheggiare se hai un'idea hai un progetto lanciati e gli indizi è il cuore dove ti batte il cuore ovviamente non è che devi andare e fare i debiti per centomila euro sai a volte tu sei giovane che non hai grandi costi fissi non devi impegnarti a prendere una casa un appartamento a comprare un ufficio però lanciati devi partire non traccheggiare e quindi questo è il mio consiglio segui il cuore grazie